GF VIP7, la mamma di Antonella scrive Berlusconi, mia figlia tacciata di protagonismo. I genitori di Antonella Fiordelisi non sembrano essere più disposti ad accettare il trattamento riservato alla 25enne all'interno del grande fratello VIP7. Su Instagram, la mamma di Antonella ha scritto una lettera indirizzata a Pier Silvio Berlusconi, in cui ha criticato l'atteggiamento di alcuni concorrenti, degli autori e dello stesso conduttore delle reality show. Sul profilo Instagram di Antonella Fiordelisi è stata divulgata una lettera scritta dalla mamma dell'influencer a Pier Silvio Berlusconi. La signora Milva ha esordito, sono una mamma preoccupata per la salute psicofisica della propria figlia. Entrata il 19 settembre nella casa del grande fratello VIP, in qualità di schermitrice e modella. Successivamente l'editore è stato elogiato per avere chiesto un cambio di rotta autoriale. A causa della deriva che stava prendendo il programma, intervento giusto. A detta della donna. Quest'anno il reality show è stato caratterizzato da persone poco empatiche e volgari, spesso ha portato a manifestazioni di delisione e scherno anche nei confronti di mia figlia. Nella parte centrale della lettera, la mamma di Antonella ha scritto, pensi che mia figlia poca avezza alle parolacce. E' stata tacciata di eccessivo protagonismo e di essere con le parole una grande provocatrice. Stando al punto di vista della donna, all'interno del programma sarebbero stati elogiati concorrenti che per loro ammissione hanno più volte infranto il regolamento staccando i microfoni ambientali e hanno detto parolacce, chi veniva attaccata con veemmenza in ogni puntata era mia figlia. Nella parte finale della missiva, la mamma di Antonella ha spiegato, questi attacchi continui hanno portato, come conseguenza, ad un odio social. A detta della donna, su Instagram, alcune persone che gestiscono profili con moltissimi follower hanno messo nel mirino fiordelisi, personaggi senza scrupoli. La diretta interessata ha sostenuto che solamente Sonia Bruganelli si accorta dell'ossessione che alcuni account hanno nei confronti di Antonella. All'interno della lettera è stato criticato anche il modus operandi di Alfonso Signorini, a qualcuna che diceva parolacce. Il conduttore riservava una pacca sulla spalla. Infine la mamma di Antonella ha criticato anche Orietta Berti, che delusione quando poi vedi un opinionista. Questa volta Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante. Asta cu rachetta, s-o admire nave spatiale de pe Andromeda. DG-ul din Dobrescu, graffer-ul din tothi o tothi MC-ul care am crescut, pe scurt, della un... ... ... ...